sto a fare un video musicale con le cuffiette ma che cazzo gli occhiali storti dovremmo andare passa dare cazzo così mette musica durante il viaggio mettere musica tenga auricolari tenga auricolari ok stiamo partendo per un'avventura il viaggio verso Mordor di GoBassian e Sasha guarda che bello questo ci potrebbe servire oh ma non ci sono i palazzi abandonati qua ho sbagliato completamente il zona perchè pensavo ci fossero dei palazzi abbandonati qui dietro oh ma siamo a testa di cazzo oh passiamo in mezzo agli alberi compa passiamo in mezzo ai cazzo agli alberi scus scus stavo per morire c'è un sacco di cosi nelle scarpe mette cazzo mette cazzo non trovare cazzo non fare sempre il video compa perchè stoppale stoppale non fare un video così ok ci rivediamo inizio ha iniziato buongiorno buongiorno questo è la radio ciao ora trasmettiamo qualcosina non sapere cosa trasmettere però trasmettere lo stesso aspetta Sasha che ti metto a fuoco faccio cacare e non metti fuoco mette fuoco a me ma non mette fuoco a me come senso figurativo che mi devo vedere come senso multimediale ma vai a cacare ma vado a cacare ehi ti spacco le spalle io a spaccare testa a chi vuole facciamo finta di andare in b no ok se no muoiamo esatto e dobbiamo arrivare possibilmente vivi mettere dita dentro freni ma per forza la togli la vediamo una volta e la togliamo la togliamo